Ho incontrato per la prima volta in un ufficio a Londra Gesù di Nazareth, o meglio l'idea di recitare questa parte. Certo, se qualcuno dieci anni fa mi avesse detto che avrei interpretato Gesù in un film, non l'avrei creduto. Devo ammettere che la mia prima reazione è stata di trepidazione, di dubbio. Ero molto incerto se dire sì o no al progetto. Penso che non sia recitabile la parte di Gesù. Io ho cercato di farne una figura non fredda e lontana, ma il più possibile umana. Spero di essere riuscito a trovare la strada più giusta.